La caratteristica principale del nuovo allenatore che verrà è che deve nutrire un profondo amore per la napoletanità, se no non andremo d'accordo mai. Abbiamo sentito Ralfa Benitez, abbiamo sentito Pellegrini, abbiamo sentito Villa Boas, abbiamo sentito Di Matteo, abbiamo sentito, io chiamai Clopper che mi disse che fino al 2016 non era possibile, ne posso citare tanti altri, Blanc della nazionale francese, italiani li ho sentiti tutti quelli che potevano sentire. Per me un allenatore incide per un 15%, quindi poi bisogna capire sul piano tecnico, sul piano umano quanto può incidere, qual è il suo rapporto umano che è importantissimo e fondamentale con i giocatori.